Arriverà a compimento la ZTL Centro Antico, partite il 22 settembre con nuove corsie, tra febbraio e marzo Si dovrebbe consolidare con l'attribuzione di tutti i contrassegni e nuovi varchi telematici, è una concreta realtà a cui stiamo lavorando Secondo, nel 2012 sicuramente la stazione Toledo della metropolitana aprirà e diventerà un altro pezzo di servizio di trasporto alla città di grandissima qualità Spero che parta la pista ciclabile e più in generale noi possiamo dedicare energie e risorse a muoversi di più in bicicletta Ma poi io ho un altro, non è un sogno nel cassetto ma un obbligo, quello di sistemare le buche sulle strade Perché mentre parliamo di bei progetti, di qualità, tutte cose che la città attende e che noi ci stiamo impegnando al massimo per dargli Però non dobbiamo dimenticare che c'è una qualità urbana scarsa anche dovuta ai problemi di manutenzione veramente seri che questa città ha